Le foto di un'epoca in mostra a Caluso. Dal 15 al 20 dicembre il chiostro del convento dei frati francescani minori di Caluso ospita la mostra dalla carrozza all'aereo, i piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960. Il progetto della consulta delle lette del Piemonte, una città sicura, l'approccio di genere alla sicurezza urbana, manuale di interventi sulla città per la sicurezza delle donne e delle persone vulnerabili e è stato presentato ad Asti e a Novara.